chiedeva a Demigliano la vicepresidenza della regione minacciando di andare via e invitava la segreteria a levare le tende. Questa dichiarazione a mio avviso non doveva farla sempre, doveva farla il segretario provinciale del Partito Democratico, perché a me aspettava, non dica la vicepresidenza, ma un assessorato forte, un assessorato che conta in questa regione. Ma non solo, non è stata fatta questa dichiarazione da parte degli organismi dirigenti di questo partito, ma non hanno neanche levato le tende e questa è la cosa che preoccupa di più. Qui non si tratta di chiedere ancora una volta una poltrone, si tratta di riconoscere ad un pezzo del PD salentino il lavoro, la fatica, l'impegno che giorno dopo giorno mettiamo come amministratori, come segretari di circolo, come semplici militanti. Analizziamo cosa è accaduto, una campagna elettorale contro tutti, difficile, cercando di indebolire la candidatura di Sergio con candidatura sciletta, pazienza, è andata bene, anzi benissimo, il risultato straordinario, il più suffragato d'Italia, quindi grande risposta dei nostri elettori. Poi arriviamo alla nomina degli assessori. Bene, tre giorni prima un esposso infamante nei suoi confronti, trattato come il più grande delinquente sui giornali che riferisco dalla stampa. È una vergogna, non per la stampa, ma per chi ha architettato tutto questo, per chi ha architettato tutto questo. Chi lo conosce poi non insegna niente nessuno, integrità morale, etica di Sergio. Ha governato questa comunità per dieci anni, cinque anni da vice sindaco, dieci poi da sindaco, neanche una denuncia, neanche un esposso, neanche un leggero abuso d'ufficio che lo prendono tutti i sindaci, neanche poi. E la direzione provinciale di tutto questo se ne esce oggi sui giornali? Sì, ma il salento rappresentato da Vatapona. Grazie, grazie, grazie. Ma dove andiamo? Allora, per concludere, io non ho una soluzione da dare a tutto questo. Mi auguro che il segretario presidente ci ripensi e dia il giusto peso a quel voto, a questo territorio. Se così non sarà, allora per questo partito inizia una brutta stagione. La capirete che, siccome non sono ricco di famiglia, l'unico patrimonio che ho è la mia onorabilità. E vi chiedo di difenderla tutti insieme. L'unica cosa che vi vedo è che questo non sono a disposizione vostra, per le nostre partaglie, per il partaglio di questa terra, per quello che dovremo fare nei prossimi mesi e nei prossimi cinque anni. Anche ieri sera e stamattina qualche amico e compagno mi ha fermato. E mi ha detto, visto che i miei cinque stelle hanno rifiutato. Vedrai, vedrai che adesso si chiameranno. In qualche modo ho sentito anche che già nelle parole di Giovanni Milena è un attimo fa. Allora, no. 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 E poi no. Io, per il rispetto che ho di voi, nel Truman Show non ci entro. Sarò il Consiglio elezionale che è l'unica vera espressione della volontà popolare che è fuori dai giorni dei gatti bastone a portare le proposte e l'idea dei problemi assise della scusa. Hanno tenuto fuori una persona? No. Hanno tenuto fuori le nostre idee per il governo della regione. Questo è il punto. Il tema politico è questo. Hanno tenuto fuori le nostre idee per il governo di questa regione. E lo hanno fatto? No, non mi sembra poco. Mi sembra molto. Appunto. E per questo abbiamo ragionato in politica. Sono d'accordo. E allora, e come lo hanno fatto? Beh, lo hanno fatto, vuol dire, in maniera abbastanza singolare. E io su questo vi invito a riflettere. Le sacre. Le sacre sono qualcosa di genuino, di popolare. Ma lì che cosa è accaduto? Beh, lì è accaduto una cosa anche politicamente molto seria. Cioè sostanzialmente è accaduto che si è messo in atto una sorta di messa in scena in cui si è dato al popolo delle sacre, cioè a tante persone che hanno creduto che fosse un momento di partecipazione vera, dando il loro contributo, scrivendosi, partecipando ai tavoli. Sono stati dati una serie di nomi. Dieci nomi. Ma questi dieci nomi, da chi sono stati scelti? Sono stati messi nelle mani del popolo delle sacre, ciò che nelle segrete stanze, come il perfetto manuale Cencendi, era stato contrattato dal presidente della regione con i partiti della sua coalizione, tra cui le sue impreviste personali. E quando si è andato a votare, che cosa si è votato? Si è votato in maniera telecomandata, nel senso che il suo staff si è messo a lavorare con i propri riferimenti di miliardi sul territorio per incarnare l'esto di quel modo. Un imbellettamento della computazione facendolo passare per partecipazione. Qualcuno dice che vuole evitare Grillo. No, peggio. Sapete perché è peggio? Perché Grillo mette in campo cittadini normali, spesso anche molto competenti. Lui invece ha messo in rete la distribuzione concordata con Ruggieri e Stefano e ce l'ha fatta passare come un grande momento di partecipazione. Questo è che è politicamente pericoloso.